D'Artagnan non si possiamo mai vedere Paolo è D'Artagnan Paolo è solo voce Buongiorno a tutti Prendasso un po' in cuffia perché ci sono i tromboni che si spavano Allora, allora Buongiorno Buongiorno, vogliamo dare prima i numeri? Diamo i numeri La settimana scorsa ci siamo dimenticati di dare però ci hanno chiamato lo stesso Vuol dire che li hanno memorizzati E questo ci inquieta un pochino No, vuol dire che li hanno memorizzati Allora, dunque, potete chiamarci al 1300 363 900 Poi potete mandarci un'email a radiorete chiocciolagmail.com Ci potete mandare eventualmente un sms al 0447 416 612 Ci potete trovare in Skype su Rete Italia e poi che dire, sì, anche justintv.com Oppure spazio giovane Rete Italia E da un po' anche sul Tele Australia per una visione più ad alta definizione il pomeriggio che stiamo facendo questo esperimento qua in quanto c'era già sentito che la qualità non era troppo buona dell'immagine è colpa di nessuno ci stiamo attrezzando Ecco, allora Cristian è tornato dopo la malattia presunto, cioè malato immaginario comunque la delusione la delusione della campagna è stata la prima mazzata politica elettorale capisci? Allora sei deluso è arrivato il primo freddo ma guarda mi sono ripreso a suolo così bravo 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 sono giovane quindi sono forte mi auguro ma ti devi fare le osse te l'hanno detto no? eh mi devo fare le osse ti devi forgiare oh io l'ho visto all'aeroporto l'altro giorno eh a mettere del Piero a mettere del Piero a mettere del Piero è vero si si era dietro aveva l'ostriscione se venivi qua l'ho fatta ma va ma mi stai prendendo in giro no la stampa stavamo qua ma perchè non mi hai avuto e secondo te scusa ma si avrei dovuto chiamare tutti gli amici quelli che ammazza ma che è? ma io sono assolutamente proibito però di nuovo non posso dirvi però assolutamente non posso invitare nessuno possiamo invitarlo qua al programma dei giovani esatto mazzato lasciamo stare la politica quella è la dilusione che non mi vuoi nemmeno mandare un invito allora lo possiamo invitarlo mandami un invito per favore adesso no perchè in questo momento si stanno forse allenando di nuovo si più avanti ma più avanti una cosa più importante il calcio o la politica? il calcio no? il calcio il calcio è più importante la politica ecco allora siamo d'accordo dai due elettori siamo d'accordo e vabbè così la penso di giorno meno male meno male senti comunque dicevo è stato un poliziotto qua anche di origine mazzico un po' di di mastico un po' mazzico mastico un po' di italiano per una campagna che sta facendo il governo mi sembra la federale addirittura sulla violenza delle donne dei ragazzi eccetera noi chiaramente abbiamo le porte e forse lo ospiteremo anche con noi perchè sembra in questo muscolo che anche in lingua italiana che ci siano parecchi ragazzi che arrivano con il cosiddetto holiday qualche mese che sono purtroppo vittime di qualcuno di abusi diciamo e non denunziano hanno paura per qualche motivo purtroppo ancora c'è questa cosa qua quindi diciamo a tutte le ragazze questa è dedicata alle ragazze perchè sulla violenza delle donne assolutamente dovete denunciare assolutamente dovete chiamare poi ci saranno dei numeri c'è stop crime comunque che funziona 24 ore al giorno potete anche essere anonimi però dire quello che vi sta succedendo è importante potete chiamare anche loro diciamo come fare cosa fare ma non statevene assolutamente zitte assolutamente no perchè la cosa la cosa più brutta della violenza sulle donne è una cosa terribile che non esiste è importante la violenza è proprio non dovrebbe proprio esistere soprattutto poi se arrivate dall'italia venite qua per un lavoretto eccetera che qualcuno vi fa assolutamente io pensavo non c'ho proprio pensato potrebbe succedere anche qualcosa del genere raccomando tanto di stare insieme quando vanno a fare passeggiate vabbè perchè l'Australia è una bellissima terra ancora sotto certi aspetti selvaggio l'abbiamo detto una volta scorsa però che ci fossero delle violenze sulle donne sulle ragazze che arrivano qua per lavorare questo mi ha un po' sconvolto quando l'ho saputo comunque stare con lui questo polizioso ma penso che sia importante creare un network sociale di comunicazione anche tra ragazzi anche per questo motivo perchè comunque quando succede una cosa del genere a volte sai sei un altro paese ci può essere lo saputo della lingua quindi secondo me è importante poter contare su persone del tuo stesso background questa campagna attivando un sistema multilingue che si può in qualsiasi momento trovare il poliziotto o la poliziotta adatta c'è l'assistente sociale c'è lo psicologo ci stanno tutto però daremo tutti i dettagli daremo tutti i dettagli perché funziona 24 ore al giorno c'è altro rumore da poter chiamare e non è una segreteria telefonica né un consent ma una persona che risponde e sarà anche in italiano speriamo sì anche in italiano soprattutto quei ragazzi che magari non masticano in italiano appena arrivano sia gli obuscoli che poi spiegheranno non solo per queste ragazze sia la telefonata si può fare anche in Italia non c'è problema allora andiamo dopo questa piccola apparenza apriamo chiudiamo Marco abbiamo detto l'altra volta sono venute Valentina e Marta comunichiamo ai nostri ascoltatori che ci seguono che comunque adesso sono arrivati a Griffith magari la settimana prossima ci faranno da inviate lì per avere un'esperienza di prima mano dal campo dal campo dal campo esattamente esatto parecchi italiani speriamo che trattatele bene amici di Griffith mi raccomando alle nostre ragazze qua che la comunità italiana lì è enorme enorme no 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 e quindi sono anche generosi che io so sono proprio persone sicuramente tratteranno bene una buona apparenza avranno avuto una buona apparenza ma secondo me l'unico problema forse è trovare il lavoro più che lo stare bene perché in questo momento c'è il boom è primavera fra un paio andiamo verso l'estate quindi tutti i ragazzi adesso è una richiesta continua ogni giorno della farm e come vi ho detto l'altra volta stiamo sempre attenti alle fregature attenti alle promesse di lavori o alle richieste di soldi in cambio di lavoro vabbè che adesso va anche di modo il woofing cioè il lavoro volontario gratis in cambio dei mesi di imposto però stiamo attenti a non cadere a non essere a non essere approfittanti esatto potreste essere ragazzi invece vi chiedono gratis con la scusa che è un volontariato certo verificate anche sempre il codice postale per vedere se rientra è valido per il secondo anno di working holiday quindi quello è sempre fondamentale e se la persona è registrata quindi se non c'è un pagamento se il pagamento è promesso più in là o dato in nero stiamo sempre attenti perché potrebbe essere fra di tre mesi e poi non vi convalida niente quindi questo è importante si lo diciamo poi a tutti quei ragazzi che appunto magari dall'Italia vogliono intraprendere queste avventure questa avventura qua in Australia ci sono tanti modi per mettersi in contatto con con la realtà qua australiana su facebook su internet eccetera quindi andate guardate girate i siti vedete chiedete fate domande nei blog c'è tantissime cose quindi basta fare una domanda in blog su una determinata che ne so azienda che da un eventuale lavoro e ti rispondono in tantissime persone quindi hai modo di vedere senza dover arrivare qua sul posto per accertarti che poi magari è qualche cosa una bufala come si dice lo puoi fare benissimo dall'Italia quindi insomma ci sono i mezzi dall'Italia dall'Italia abbiamo ottime notizie mi diceva prima mi diceva prima Fabio anzi lascio a lui la parola perché noi siamo spesso io sono stato spesso criticato per perché diamo delle immagini un po' catastrofiste della crisi in Italia qualche signora dice ma perché in Italia è così bella e allora noi diciamo a questi signori perché i ragazzi vengono in numero così grande diciamo non è soltanto perché la strada è bella perché lo è non è soltanto per il sole o perché fare l'esperienza ma c'è qualcosa dietro e cioè c'è qualcosa dietro certo un articolo proprio di ieri sul Corriere Corriere della Sera in Italia più di un giovane su tre non fa il lavoro che voleva quindi è chiaro che i ragazzi si trovano a studiare tanto andare all'università subito dopo il liceo o l'istituto professionale che fanno vanno all'università non accompagnano un lavoro durante durante l'università cosa che invece in altri paesi fanno infatti in Italia solo il 10% dei giovani tra i 20 e i 24 anni associa allo studio una qualche esperienza lavorativa contro il 60% in Danimarca il 50% in Germania e Regno Unito il 25% in Francia e persino in Spagna il 20% quindi poi questi ragazzi finito l'università si trovano con in mano il titolo di studio la laurea o quel che è l'MBA tutto quello che l'esperienza magari anche all'estero dell'Erasmus sicuramente ma non con un'esperienza lavorativa quindi si trovano poi diciamo un passo indietro rispetto ad altri e quindi questo chiaramente è una è uno svantaggio si condiziona un attimino la transizione tra scuola e lavoro diventa più lunga e difficile ci sono dei periodi di attesa molto più lunghi in Italia e poi c'è anche il discorso che si trova poco spazio e poco lavoro in Italia in questo periodo e poi chiaramente cosa succede? Chiaramente c'è la fuga dei cervelli quindi dal 92 pensate al 2000 c'erano stati circa 100.000 italiani che sceglievano ogni anno di emigrare all'estero nel decennio successivo quindi 2000 2012 scusate 2000 2010 sono raddoppiati 200.000 più tutti quelli che non segnalano lo spostamento di residenza quindi non possono essere diciamo seguiti a livello burocratico e quindi non si sa se sono emigrati e stanno facendo un lavoro all'estero oppure poi rientrano e vanno avanti e indietro oppure se effettivamente sono residenti all'estero questo è un grosso problema volevo dirvi potete telefonare il numero lo ha già attivato lo ha annunciato poco fa Fabio 1300 363 900 per la linea diretta chiunque da ovunque si deve usare i ragazzi hanno un telefono urbano quindi anche voi giovani se ci state ascoltando dire suggerimenti dare anche la vostra esperienza oppure se ci sono persone che hanno dei giovani sono ospiti a volte ci hanno dei familiari eccetera potete chiamare 1300 363 900 poi c'è un messaggio che forse abbiamo già risposto faccio 30 anni ad aprile devo venire a giugno cosa posso fare se faccio il visa poi quanto tempo posso faccio il tempo per partire un anno deve arrivare il complimento dei 30 anni e poi un anno da quando ha fatto il visa allora un risposto giusto a tempo bene 28 in questo momento vogliamo fare un primo una prima pausa e facciamo questa cosa facciamo cosa abbiamo abbiamo la strada di francia di daniele silvestri a quanto mi piace questa razza mettiamo su anche poi la prossima volta qualcosa di vasco che sta male in ospedale non mi è piaciuto vasco che non è andato al concetto per i terremotati a reggio Emilia ma forse non starà bene però aspetta ha detto non sto bene non ho voglia di andare non posso poi però tre settimane dopo si è presentato a un concetto giù in Puglia a volte ha fatto una bella figura no no però a volte dietro ai cantanti ci sta l'entourage cioè il management eccetera capito però siamo nella sua terra questo è successo a dieci chilometri da casa sua vai fai una canzone o due comunque è grande no no ma nessuno mette in discussione ehi che c'è? no nessuno mette in discussione però occhio che stiamo registrando no no e tu ti stai dicendo e lo so no però non mi è piaciuto io non posso esprimere una mia opinione poi io lo metto in discussione secondo me secondo me ormai c'è qualcosa che andrà alla deriva ma sicuramente no no sicuramente è una malattia che sicuramente c'è qualcosa che non va però insomma voglio dire dici che stai male poi due settimane dopo ti presenti a un concerto vabbè un concerto ristretto con le persone e tutto quanto però insomma comunque hai tenuto un concerto no per dovere di crotaca lui hai detto che non andava perché era contrario alla beneficenza fatta in quel modo lui preferia farla con i soldi in maniera non visibile eccetera quindi era proprio controllo all'idea del concerto perché vedi a volte questi due organizzatori organizzano queste cose di beneficenza cioè tu vieni gratis la persona il cantante l'attore va gratis però loro poi tolgono le spese e poi danno il resto nelle spese gli organizzatori stanno comunque in qualche modo dentro sicuramente e a volte qualche cantante fanno bene a dire aspetta un momento facciola bene la voglio fare io direttamente allora dipende poi da come ognuno è venuto fuori poi sui giornali era quello che doveva venire fuori allora invece hanno messo solo questa cosa qui insomma è stato un po' ma guarda lui adesso si è diventato molto alla polemica quindi perché adesso è molto attivo su facebook per esempio e esprime le opinioni ci hanno a casa si è mosso da casa chiaro che cosa possiamo trovare qualcosa da fare però sai come quelle persone che si dedicano ai social media ma ancora non li hanno capiti completamente quindi le social media funziona che comunque tu dici qualcosa e ci sono migliori persone che ti rispondono e quindi le risposte possono anche non più certo certo devi essere pronto anche questo alla fine facebook è un villaggio l'attacco è così certo quindi a lui alcuni diritti non sono piaciute e quindi ci sono creati poi ci sono Vestiani quelli creati per Liga Bue quelli si per un altro libro di musica è sempre così è come nel calcio ci sono le fazioni le squadre uno sull'altro le squadre a proposito delle squadre ma Fabio è contento che è arrivato Del Piero vediamo che la sua fede è garcistica la mia fede è interista eccolo eccolo lo dico io sono orgoglioso di essere interista no però Del Piero è un grande giustatore e vorresti fare delle domande precisa su uno scudetto giusto? no guarda ormai è acqua passata ormai è acqua passata ormai è acqua passata secondo me non dovevano quello famoso scudetto non dovevano assagliarlo dici proprio ma si era era meglio ma bisogna dire da un punto di vista italiano che penso che siamo abbastanza felici che è arrivato Del Piero no io adorato vorrei andare a vederlo allo stadio eh ci mettiamo a parte le fazioni anzi a breve anche pubblicità ma che arrivi così almeno qua ci si trova e si va tutti insieme tutti lo sai no saper animare qualcosa non ci vuole per voi attenzione paco bomba eh non posso se non ce la confermo poi do un po' ma non alla prima eh perché alla prima ci sarà il mondo no alla prima è tutta esaurita hanno chiesto di prezzo questo è già no no ancora ci sono ancora ci sono ci sono una cosa ma la prima ci possiamo vedere e ce la guardiamo tutti insieme sì magari no 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 non è poi proviamo ad andare allo stadio perché voglio dare proprio il colpo d'occhio tratta la vita che hanno trasferito anche lo stadio ma dalla seconda però partita eh non dalla seconda no la prima perché piccolino lo stadio noi andiamo negli stadi grandi no hanno spostato già dalla prima partita ah già dalla prima sì sì 83 mila posti di capienza Marco il nostro il prossimo punto sociale diciamo l'incontro dovrebbe essere alla partita nello stadio cioè nello stadio ne andiamo allo stadio raccogliamo tutti i ragazzi e andiamo allo stadio faremo una registrata dallo stadio magari si può fare con le interviste e ne facciamo le pizze lì io lo vedo spesso allo stadio ma mi sono sempre in direzione beh attenzione visto che adesso in Italia proprio l'altro giorno leggevo che in Italia sono diminuiti drasticamente gli spettatori allo stadio in Italia negli stadio italiani beh forse lì per l'avvento della tv che ha entrato in tutte le case con pochi soldi che guardi la partita però c'è questo poco richiamo ormai negli stadio vabbè è un misto appunto come dici tu di Sky ormai Fox di costi di costi per andare allo stadio del fatto che comunque purtroppo spesso costa meno l'abbonamento alla tv e guardarti tutte le partite quelle che vuoi e quando vuoi saluto dal divano di casa piuttosto che andare allo stadio e dover raccolarti anche oltre al costo dell'abbonamento anche per dire al costo di arrivare allo stadio certo c'è la benzina il paccheggio il paccheggio comunque le ore che si perdono quando andate e ritorno per andare allo stadio perché mica tutti sono della città dove gioca la squadra magari alcuni arrivano anche da fuori non dopo queste estendazioni su Del Piero e beh per gli amici d'Italia sono un po' gelosi di noi altri eh per il Vegemite prima parte